che gara vi aspetta domani contro il San Vito Positano e che condizioni invece tu stai personalmente? Una gara molto difficile, come ogni altra gara anche questa sarà molto difficile, una buona squadra, però noi contiamo sulle nostre forze perché siamo anche noi una buona squadra, penso io, e quindi abbiamo preparato la nostra partita al meglio. Io personalmente sto benino anche se non gioco da parecchio, però fisicamente mi sento bene. Ecco, per la gara di domani sei convocato quindi? Penso di sì, non ho visto ancora, penso di sì. Ok, allora, visto che tu ormai ti alleni già da qualche settimana qui, diciamo come hai trovato la squadra, sia mentalmente che fisicamente parlando? Un bel ambiente, una bella squadra, una fortissima squadra, abbiamo tutti gli attributi per vincere questo campionato. Bisogna sempre dare il massimo e impegnarsi al 100% perché comunque, come abbiamo detto prima, non è un campionato facile, però abbiamo tutti gli attributi per vincerlo. Ecco, chi ti ha convinto, diciamo, a sposare questo progetto? Ma conoscevo bene il direttore Preto che quest'anno sta qui, mi ha chiamato lui, mi fa molto piacere lavorare per lui e lavorare per la Nocerina perché è una società molto forte, è una società che ha sempre contato nel calcio e cercheremo di farla contare anche quest'anno. Per quanto riguarda il tuo ruolo, tu sei diciamo un terzino, però puoi anche occupare entrambe le fasce, qual è il tuo ruolo che tu prediligi di più? Ma io nasco difensore centrale, poi l'anno scorso ho fatto la Serie D, quindi un 98 difensore centrale non penso che possa giocare sempre. Mi hanno spostato terzino, ma sinistro-destra non cambia niente. Quindi c'è una battuta sul tecnico Maiuri, che persona è? Ma in poche parole il mister ci sa fare. È un mister che ti dà molta voglia, molta grinta, lavora molto mentalmente, anche per noi ragazzi che siamo molto giovani e qualche volta potremmo mollare un po'. Invece lui è sempre vicino e ci dà sempre molta voglia di vincere. Invece le tue abiezioni per questa stagione e se secondo te si può vincere il campionato? Secondo me il campionato, se facciamo bene, se ci impegniamo, si può vincere ad occhi chiusi. I miei obiettivi sono quelli di andare avanti e magari restare qui a Nocera anche l'anno prossimo se si vincere il campionato o se non si vincere il campionato. Però penso che potremmo vincere il campionato impegnandoci molto.